C'è una scintilla dentro di noi e viene percepita anche grazie agli altri e quando si accende ci viene un impulso di amare e renderci utili vogliamo prenderci cura delle persone e dell'ambiente non è solo volontariato ma è consapevolezza, amore, umanità perché ci innamoriamo delle persone e di quello che fanno